Lanciata nel 2012, nuova Clio rappresenta il nuovo corso di design di Lorenz van den Hacker ed è subito un successo, anno dopo anno le vendite crescono, come anche la quota, fino a raggiungere nel 2016 il record assoluto in termini di vendita, siamo quasi a 50.000 unità vendute ed è un successo inarrestabile, visto che nel 2016 Clio è l'auto straniera più venduta in Italia tra le straniere. Nel giugno 2016 Lorenz van den Hacker rilavora sulla Clio per il restyling e riesce a rinnovare un best seller. Lo fa con il design esterno e anche interno, nel design esterno una nuova firma luminosa anteriore e posteriore dei nuovi elementi come griglia, paraurti, che le conferiscono una personalità ancora più forte della versione precedente. All'interno tanti cambiamenti, nuovo volante, nuove sellerie, nuove bocchette d'aria, nuova leva al cambio, questo materiale soft touch sulla plancia conferiscono una qualità percepita notevole. Quello che si vede all'esterno, questo wow effect, si ritrova anche all'interno entrando nell'abitacolo. A questo si aggiungono una tecnologia d'avanguardia con un'offerta multimediale estremamente ampia, dal sistema R&GO al SmartNav fino all'R-Link Evolution. Ma non finisce qui, tecnologia anche di sicurezza con i sistemi ADAS, abbiamo per esempio l'assistenza al parcheggio posteriore. La grande novità però nel 2017 è questo nuovo turbo GPL. Il gruppo Renault è l'unico nel segmento B a lanciare un turbo GPL. Lo ha fatto un anno fa con la Sandero, lo fa oggi con la Clio. Il turbo GPL offre tre vantaggi. Uno che lo differenzia dalla concorrenza è questa presenza del turbo. Non si parla più solo di economicità del GPL ma anche di performance. Il secondo è chiaramente legato al GPL, dunque bassi costi ma anche la possibilità di entrare in zone di traffico limitato. E infine la doppia alimentazione permette di fare 1.500 km. Turbo, dunque performance, vuol dire che si possono raggiungere 100 km orari in soli 12,2 secondi, una cosa notevole per un GPL. Il turbo GPL va a rafforzare la gamma di motorizzazione già molto ampia. Parliamo di tre diesel, tre benzina. Questo motore viene offerto sui due primi livelli di allestimento, Life e Zen, a partire da un prezzo di 15.350 euro. Il lancio è previsto il 25 di febbraio in tutte le concessionarie Renault in Italia.